Pulizia straordinaria della città in vista della stagione estiva che entra nel vivo potenziamento dell'ufficio per la ricostruzione e ricognizione di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale, conferimento dell'incarico a un tecnico per individuare la tipologia degli interventi da seguire allo stadio Ezio Ricci. Queste le primissime priorità del sindaco di Pratola Pelini Antonella Di Nino elencata ieri sera nella prima seduta solenne del nuovo consiglio comunale dopo aver prestato giuramento con tanto di fascia tricolore. Sicuramente la trasparenza, la correttezza e la condivisione saranno al centro del mio mandato. L'augurio che ho rivolto a conclusione del consiglio è che lavoreremo affinché anche le posizioni della minoranza possano attestarsi su quelle della maggioranza. Un'opposizione vigile, costruttiva, mai demagogica, che sa che cosa vuol dire governare. Annuncia un'opposizione vigile e costruttiva l'ex sindaco Antonio De Crescentis che dopo dieci anni si trova sui banchi della minoranza. L'augurio è che si faccia la politica in questa sala, che non si faccia, che non si venga a fare propaganda da una parte o da un'altra, parlo anche per noi. Ha esordito il consigliere d'opposizione chiedendo conto fra le altre cose dello stato procedurale del polo unico della residenza Veranziani mentre proprio sulla nuova scuola si riaccendono le polemiche visto lo striscione che è stato affisso fuori il palazzo municipale. Questa amministrazione non è chiamata a pronunciarsi sul polo unico precisa subito il sindaco di Nino ma verificare tutte le procedure lo abbiamo fatto proprio questa mattina. Attenzione alta anche per lo stadio Ezio Ricci vuole vederci chiaro il sindaco per capire che tipo di intervento bisogna eseguire per permettere nello Stellati di giocare in casa nel prossimo campionato di Serie D ma soprattutto quanti fondi sono necessari per dare inizio ai lavori. Siccome in questi giorni sono stati tirati un po' di numeri all'otto ci serve 500, 600, un milione ma questo non risultava registrato in alcun atto ufficiale presso questi uffici ho deciso di dare un mandato preciso affinché potessi capire realmente di che cosa stiamo parlando. L'era di Nino comincia con un perfetto fair play fra maggioranza di opposizione e se il buongiorno si vede dal mattino che sia di buon auspicio. Mi permetto anche di fare un appello alla popolazione perché noi vogliamo portare Pratola al nostro motto Pratola bellissima e per arrivare a ciò non è solo un impegno dell'amministrazione e io confido molto sui miei concittadini.